Le associazioni attive per la tutela del Parco Nazionale del Vesuvio scrivono al Ministro. Nella missiva a Roberto Cingolani per la transizione ecologica si fa presente che a breve dovrà essere nominato il nuovo Presidente del Parco Nazionale. Dati rischi che corre il nostro patrimonio naturale e paesaggistico, è ancora vivo il ricordo dell'incendio che nel 2017 distrusse migliaia di ettari di vegetazione, le associazioni e i comitati chiedono maggiore attenzione nella nomina del nuovo dirigente. Si chiede una persona esperta e competente nelle materie di tutela ambientale e che sia anche abituata alle meccaniche associative, in modo a poter dialogare con le realtà quotidianamente attive sul territorio. Per le associazioni dovranno essere disposte anche consulte periodiche per valutare di molta in volta i rischi ed i provvedimenti da prendere. Cosa più importante però, specificano nella lettera, è che il nuovo Presidente sia una persona che ami genuinamente l'ambiente del Vesuvio, poiché solo un forte slancio di amore può risollevare le condizioni del parco dopo il grande incendio.